buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 22 marzo 2022 siamo pronti per la nostra rassegna stampa a così evidenziare le notizie del giorno così come le riportano i giornali questa mattina e l'arresto del carlino e il Corriere Adriatico sulle pagine locali iniziamo la giornata sotto la protezione del santo del giorno vediamo che è Santa Lea di Roma Santa Lea visse nel quarto secolo e fece parte di una delle prime comunità cristiane organizzate da San Girolamo fu madre superiore delle vergine mutuò il lusso e gli agi della prima parte della sua vita quando aveva sposato il patrizio Vezio Agorio pretestato che era il console della città con l'umiltà della sua vita monacale una volta rimasta vedova si vestì di sacco trascurò il suo aspetto e fece tante tante opere buone senza ostentarle così in silenzio soprattutto stette sempre raccolta nella chiusura della sua cella insomma fu una matrona nella prima parte della sua vita e poi una monaca santa nella seconda parte e vediamo ora le previsioni del tempo intanto vediamo che il sole questa mattina sorge è sorto anzi alle 6 e 08 e tramonterà alle 18 e 23 la situazione del tempo si mantiene stabile e ben soleggiato con un clima diurno mite i valori massimi saliranno fino a 12 gradi 12 13 gradi diciamo meglio una ventilazione debole e oppure moderata di grecale i venti sulle coste espireranno da una direzione di nord nord ovest sull'interno invece debole da est nord est e per quanto riguarda il mare diciamo che il mare rimane sostanzialmente agitato e quindi apriamo il Corriere Adriatio questa mattina sulla pagina di Fano dove vediamo un intervento da parte dell'assessore alle attività economiche tien lucarelli nel settore della pesca ristoranti investimenti e dragaggio così proviamo a rilanciare il porto ha dichiarato l'amministratore l'assessore lucarelli interviene sulla crisi della pesca purtroppo non abbiamo risorse per dare contributi da parte del comune ha dichiarato comunque il comune di Fano non sta inerte di fronte ad una situazione economica che grava su diverse famiglie in senso critico ancora pur essendo ridotta l'attività della pesca Fano rappresenta una delle componenti principali dell'economia cittadina ebbene che cosa può fare l'amministrazione comunale innanzitutto può incentivare la sua opera di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni superiori come la regione come il governo e poi può intervenire sul porto per esempio ha realizzato tutta quella rete di ristoranti che valorizzeranno il prodotto il pesce locale il pesce pescato in adriatico secondo le ricette della tradizione marinara fanese il che ha una implicazione importante anche dal punto di vista del turismo e poi si cercherà di ottenere la denominazione di origine controllata del buon pesce dell'adriatico quindi diverso dal pesce di importazione oppure dal pesce che giunge da altri mari e magari in situazioni precarie di conservazione il deco la certificazione deco denominazione comunale di origine non è altro che una certificazione di origine controllata quindi anche questo potrà incentivare dal punto di vista qualitativo il consumo del pesce e poi vi sono tante altre iniziative che l'assessore Etienne Lucarelli evidenzia questa mattina nell'articolo e poi c'è un ritorno sul caso della signora della donna che è deceduta a sabato scorso nel pronto soccorso di Fano dove si era recata per un dolore ad una gamba ad un piede mentre i sanitari le stavano misurando la pressione la donna è caduta a terra ed è deceduta e non c'è stato il modo di farla rianimare nonostante gli interventi che hanno durato per oltre mezz'ora si è cercato appunto con l'intervento del cardiologo del rianimatore di riportarla alla di riportarla insomma era in coma di riportarla in vita ma non c'è stato nulla da fare purtroppo questa mattina ci sarà il riscontro diagnostico e poi si stabiliranno i funerali che probabilmente si svolgeranno nel pomeriggio di domani. Città amica di bimbi e adolescenti il comune di Fano aderisce al progetto dell'Unicef è un percorso in nove passi costituito da un tavolo di lavoro a cui parteciperanno il sindaco tutti gli assessori e poi cinque rappresentanti del consiglio comunale a partire dal presidente e poi due rappresentanti della maggioranza e due rappresentanti della opposizione che cosa farà questo tavolo tecnico ci saranno anche poi i tecnici del comune a seconda appunto di quello che deciderà il sindaco di quale settore scegliere insomma. A che cosa servirà questo tavolo tecnico? A tradurre in pratica in provvedimenti concreti le direttive dell'Unicef e soprattutto gli ideali del progetto Fano città dei bambini quindi la traduzione per quanto riguarda la sicurezza dei bambini, lo sviluppo del gioco, la conformazione di un ambiente adatto alla sana crescita salutare e quindi ma anche dal punto di vista didattico dei più piccoli della città. Multiculturalità, il dialogo salvifico con le straniere. Domani ci sarà la prima conferenza di impronte femminili tra pandemia e guerra. Impronte femminili è una delle iniziative organizzate dall'assessorato alle pari opportunità dedicata quest'anno al tema della multiculturalità con l'obiettivo di conoscere e mettere in dialogo il territorio attraverso il punto di vista dell'esperienza delle donne di origine straniera. Insomma si sentiranno diverse presenze che provengono da altri paesi ma paesi diversi tra loro quindi paesi africani, paesi dell'est europeo, paesi dell'oriente e appunto si metteranno a confronto queste diverse visioni e si vedrà come le straniere considerano il territorio di Fano e soprattutto considerano l'accoglienza di cui sono state fatte oggetto. E poi in quest'altro articolo del Corriere Adriatico sulla pagina di Fano si parla della ristrutturazione della pista Zengarini soprattutto della realizzazione di questo tunnel e questa è la vera novità di questo progetto un tunnel che ospiterà una pista da corsa con quattro corsie. Ebbene il progetto è stato affidato ad un professionista molto noto, si tratta di Stefano Longhi, architetto torinese che ha una vasta esperienza sul fronte della progettazione degli impianti sportivi e nello specifico quelli consacrati proprio all'atletica leggera. Di recente è stato coinvolto nell'operazione di restyling che ha interessato l'arena civica di Milano, insomma uno dei progetti più importanti a livello nazionale. E poi ieri ha fatto il punto dell'attività del circolo bianchini Andrea Angelucci che ne è il presidente. L'ho fatto insieme al sindaco, il sindaco in qualità di gestore della delega, di gestore diretto della delega dell'assessorato alla cultura. Ebbene il circolo bianchini quest'anno ha veramente delle interessanti proposte, le ha già cominciate a partire dal dicembre scorso. Si tratta di proposte, di incontri che vengono così sintetizzati dal titolo Antropocene, l'era della umanità. Antropocene è un neologismo che è stato coniato nel 2000 da parte di un premio Nobel, si tratta di Paul Kruzen, olandese, che ha evidenziato con questo termine un nuovo, una nuova era, un nuovo corso della storia della Terra. Dunque Antropocene, l'era dell'umanità. E sotto questo titolo appaiono diversi argomenti. Abbiamo argomenti di storia dell'arte, della musica, della filosofia, del teatro, della matematica, della medicina, dell'ecologia, insomma tanti argomenti. Ma Angelucci ha voluto porre l'attenzione su due argomenti in modo particolare. Si tratta di un seminario di tre giornate che si svolgeranno dal 22 al 24 aprile nella chiesa del Gonfalone. Saranno svolto, sarà svolto questo, questo seminario dal professor Massimo Raveri, professore ordinario di religioni, filosofie dell'Asia orientale dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Si parlerà del Giappone, del Giappone, questo mitico paese orientale così strano, così diverso da noi, sotto diversi punti di vista. Abbiamo la letteratura, abbiamo l'arte, abbiamo la spiritualità, insomma un mondo svelato, interessante, sconosciuto, che verrà posto all'attenzione. L'altro invece argomento è quello dell'opera di Pasolini nel centenario che ricorre quest'anno. Sono in corso al cinema Masetti delle proiezioni dei suoi film, ebbene il 13 aprile sarà la volta del Vangelo secondo Matteo, poi dunque, no, 13 aprile abbiamo invece un incontro con Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna, che parlerà proprio di Pasolini, e poi il 18 maggio la proiezione del Vangelo secondo Matteo è a Cattone, l'altro film di Pasolini, l'8 giugno. Giriamo ancora la pagina e siamo a Fossombrone, dove si sta svolgendo il Festival del Tartufo Bianchetto, insomma una delle golosità della nostra gastronomia. Il Tartufo Bianchetto fa centro un piacere di gusto e tante relazioni. Esaltato il rapporto tra Bianchetto e Bianchello, uno dei vini, diciamo così, che sono diventati pregiati. Prima era un vino un po' così, un vino, non dico da tavola, ma insomma un vino tra i meno i meno pregiati della produzione nazionale. Adesso invece da qualche anno, anzi da diversi anni, è diventata una prelibatezza della nostra produzione grazie alla attività di qualificazione che hanno fatto i produttori. Esaltato il rapporto con il Bianchello, di Bianchello, nella narrazione di 2200 anni di storia. Comunque tanti visitatori e buon gustai stanno affluendo a Fossombrone e molti hanno partecipato all'inaugurazione di questo 38esimo festival, insomma tra Tartufo e Bianchello, veramente c'è di che passare dei momenti molto molto belli. E ritorna a Mondolfo anche la spaghettata, insomma si era perso un po', no, non si era perso il ricordo perché due anni non si perdono i ricordi, però insomma si era persa la dolcezza, la bontà di questo piatto. Spaghettata dopo due anni con il contorno dello sport e poi avremo la cicloturistica, una podistica, una camminata per la vita e l'evento per il primo weekend di aprile. Torna dopo lo stop forzato di due anni, a causa della pandemia ovviamente, la tradizione, la tradizionale spaghettata di Mondolfo e lo fa in grande stile con tanti eventi collaterali. Quindi una volta andiamo a Fossobrone a mangiare il tartufo bianchetto, poi andiamo a Mondolfo a mangiare la spaghettata, insomma la primavera ci propone tante iniziative interessanti nei pressi di Fano, nei pressi della costa. Vediamo ancora le notizie che riguardano Pesaro sul Corriere Adriatico e vediamo una buona notizia. Gli studenti tornano a partecipare a gite scolastiche. Si torna in gita scolastica domani, il primo viaggio, partono alcune classi del Marconi di Pesaro. Gli altri istituti attendono il primo aprile per non avere restrizioni. Anche in questo settore lievitano però i costi, perché poi la benzina quando si viaggia costa un po' di più dappertutto. Infatti solo per il carburante c'è un aumento di prezzo del 20%. Le mete più gettonate. Vediamo quali sono. L'Istituto Agrario Cecchi sta mettendo in calendario tra aprile e maggio numerose visite didattiche nella speranza di confermare i numeri tra la risalita dei contagi e qualche positività. Tra le prossime mete previste c'è un stage didattico a Lecce per le terze. Per le quarte invece si profila un soggiorno in Piemonte nelle Langhe, mentre le quinte vengono indirizzate in modo particolare in Sicilia. Vediamo invece per quanto riguarda il Mamiani. Il Mamiani ha scelto di limitare i viaggi solo alle quarte e alle quinte. Insomma qui si va un po' più con i piedi di piombo. Fiducioso a un ritorno alla normalità invece è il preside del Marconi, Riccardo Rossini. Mette programmate Roma, Venezia e la Sicilia commenta viaggi solo in Italia. E l'unica novità è un periodo limitato compreso tra i tre e i cinque giorni rispetto alla pre-pandemia. Insomma si riducono i giorni di viaggio. Comunque l'importante è che le gite si facciano perché le gite sono un momento molto importante durante la vita scolastica dei ragazzi. si intessano relazioni, si vedono cose belle, si diventa un pochino più indipendenti. Insomma è un momento che poi rimane nei ricordi di tutta la vita. Talent Day, sogni e lavoro, la capacità fuori dell'aula. C'è stato un accordo stipulato tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e l'alberghiero Santa Marta per mettere in contatto ragazzi e imprese nella prospettiva del lavoro. Stabilito l'accordo per il nuovo ospedale e una palazzina di Fano. Lo approva la Giunta regionale che definisce così il suo nuovo corso per quanto riguarda la sanità. Dirigente delegato alla firma con l'azienda Marche Nord. Nel testo si supera l'accentramento di servizi a Pesaro. Il nuovo ospedale, vi ricordate, l'ospedale unico era a Pesaro e viene preservata l'autonomia del Santa Croce. Il superamento del modello organizzato dall'accentramento del servizio a Pesaro e l'autonomia funzionale dell'ospedale Santa Croce di Fano sono i due capisaldi della revisione dell'assetto ospedaliero deciso dalla Giunta regionale. Ieri è stato codificato, è stato formalizzato questo nuovo progetto. Si tratta di realizzare per quanto riguarda lo schema di accordo raggiunto tra la Regione Marche e l'azienda ospedaliera per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia, una struttura da 372 posti letto per una spesa di 150 milioni di euro ed una moderna palazzina a Fano che accolga il pronto soccorso, la diagnostica e le sale operatorie finanziata con 16 milioni di euro. Erano notizie che già si conoscevano però insomma il fatto che siano state formalizzate, che siano state codificate è un altro punto importante nel percorso burocratico di queste strutture. Boato, esplodono due bottiglie davanti alla scuola elementare. Nella primaria Liubic non c'è per fortuna nessun bambino ma c'è stata tanta paura nel quartiere. Sono entrati in azione dei ragazzini e hanno fatto questo atto così, un atto sconsiderato. Sul caso indaga la squadra mobile e la polizia scientifica. Il fatto è venuto intorno alle 17 in via Nitti, ieri. Qui sono state appoggiate due bottiglie in plastica da un litro e mezzo. All'interno c'era l'acido muriatico e della carta stagnola. Infatti l'alluminio genera una reazione a contatto con l'acido e piano piano la bottiglia si gonfia fino a dannerirsi e poi a esplodere. Insomma non è un'esplosione tipo una bomba però insomma sono quelle cose che possono creare anche danni come incendi oppure qualche infortunio a chi sta vicino. Quindi la polizia sta indagando ma sembra che sia un atto sconsiderato da parte di ragazzini. Aria stagnante, niente mascherine, sanzioni e sigilli ad un locale per cinque giorni a Cagli. E qui abbiamo che una multa particolare pesante di 6.500 euro. Insomma un provvedimento particolarmente punitivo. A Vallefoglia si è creato l'ispettore ambientale che dovrà vigilare sulla corretta, sullo credo deposito dei rifiuti e prima informa poi passerà alle multe. È una figura che è stata approvata durante l'ultimo consiglio comunale e avrà appunto la funzione di prevenire e controllare le viale azioni delle norme in materia di smaltimento di rifiuti urbani. A Urbino profughi e accoglienza a rilento nel territorio si è ancora alle verifiche delle strutture ed oggi tra Erdis e Caritas sono stati reperiti soltanto 11 posti. L'Università ha detto che mette a disposizione quattro borse di studio. Titas, che è la rappresentante degli studenti, Federica Titas, sprona le agenzie immobiliari locali per mettere a disposizione quegli immobili che sono vuoti in questo momento, che possono servire per l'ospitalità dei profughi. A questo punto passiamo sul resto del Carlino, dove vediamo che sulla pagina di Fano si parla dell'aumento degli stipendi degli amministratori comunali. Stipendi doppi per sindaco e giunta, ma c'è la beffa dei comuni cappelluogo. Un argomento di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi per un articolo pubblicato dal Corriere Adriatico. Urbino, Ascoli, Macerata e Fermo, pur avendo molti meno abitanti di Fano, vengono premiati dalla normativa. L'aumento delle indennità sarà progressivo. L'esecutivo ha deciso comunque di non anticiparlo. Ebbene, qual è l'entità di questo stipendio che aumenta? L'entità è questa. Si è passati, anzi si passerà, diciamo meglio, dalle 3.904 euro dello stipendio del sindaco fino al 2021 a 6.210 nel 2024. Dal 1 gennaio del 2022 il sindaco prende 4.941 euro. Poi passerà nel 2023 a 5.472 e a 6.200 appunto nel 2024. Aumenta lo stipendio anche al vice sindaco che passa da 2.928 a 4.657 nel 2024. Quello degli assessori da 2.342 a 3.726 nel 2024. E quello della presidente del Consiglio Comunale che passa da 2.342 nel 2021 a 3.726. Anche sul resto del calino si parla della morte della 57 Fanese che si era recata al Santa Croce per un dolore al piede stroncata da embolia polmolare. Così si suppone questa mattina i riscontri verranno fatti appunto con l'esame appunto della Salma Roberta Corina di 57 anni. E poi un'iniziativa del sindaco quale assessore alla cultura. Adesso se ripunta in alto mini eventi nella torre di Sant'Elena. L'annuncio del sindaco metterà a disposizione di fanesi e turisti una delle cinque costruzioni fortificate presenti a Fano. L'idea è creare piccole esposizioni. Lo spazio è angusto ma la vista è splendida. La torre di Sant'Elena rientrava in quel progetto che era stato fatto tanti anni fa curato dall'assessore Martino Branca per quanto riguarda il restauro dei cinque monumenti della città. C'erano le mura romane, c'era il bastione sangallo, la rocca malatestiana e c'era anche la torre di Sant'Elena che in un primo momento dopo essere stata restaurata aveva servito anche per delle esposizioni di carattere artistico, di mostre eccetera. Poi la cosa era stata lasciata a cadere e la torre era stata chiusa di nuovo. Ora il sindaco Seri intende riaprirla ma è una vera torre, è una vera casa torre oppure il campanile del soppresso ospedale di Sant'Elena a cui era annessa anche una chiesa con la famosa pala che è costruita nei musei civici? Punto in interrogativo. Da Pasolini a Giappone 50 sfumature del circolo Bianchini presentata ieri la rassegna antropocene l'era delle umanità al via da aprile fino a giugno. A Mondolfo torna la spaghettata ma senza tavolate dopo lo stop a causa del covid l'appuntamento si rinnova domenica 3 aprile. Scenario come al tempo dei duchi c'è il progetto per ripristinare il paesaggio di questa bella collina che si vede affacciandosi da Palazzo Ducale ad Urbino. È un progetto di un costo complessivo di 1 milione 300 mila euro e si ripristina insomma il paesaggio, le coltivazioni, gli alberi, gli orti, i prati di quello che era durante il rinascimento. E vediamo anche le notizie che caratterizzano la pagina di Pesaro. Bottiglie con l'acido davanti alla scuola, doppia esplosione vista una donna fuggire in questo caso, non dei ragazzini. Dentro c'erano anche dei pezzi di alluminio che hanno innescato la deflagrazione a due passi dalle elementari di Vianetti, insomma, questo è una cosa su cui riflettere, insomma, un pericolo veramente incombente per i ragazzi. La vicepreside comunque smentisce, non possono avercela con noi. Daniela Massi è subito a corsa incredula, per quanto avvenuto, ascoltati i tre ragazzini come testimoni. Droghe e abusi ormai anche tra i tredicenni e si vendono sui social per 5 euro. Paola Auguccioni, responsabile dell'associazione ABAP, evidenzia. Accadono cose che vanno al di là di ogni immaginazione, un lockdown devastante. Insomma, sempre più i giornali riportano iniziative di violenze, ma anche di soprafazione da parte degli adulti sui giovani, ma anche tra i giovani, tra loro stessi. Prima la cocaina e poi il sesso in macchina. Un giovane indagato per violenza su una quindicenne. La procura, ne abbiamo visto sui giornali di ieri, la procura apre un fascicolo sulla storia di due ragazzine soccorse dai carabinieri all'alba e portate poi al San Salvatore. E' finito così nei guai un ragazzo di 25 anni che le ha fatte salire in auto e dopo l'assunzione di droga avrebbe abusato di una di loro. Queste ragazze erano state trovate in strada all'alba che schiamazzavano e non si sa se erano in preda alla droga oppure erano ubriati, così come riportava il giornale di ieri. Giriamo ancora sul resto del Carlino e vediamo che l'appuntamento dei Maneskin, che è stato rinviato a causa del Covid, è stato protratto al 2023. Saranno protagonisti questi musicisti il 23 febbraio alla Vitifrigo Arena, prima tappa del tour europeo. E poi riapre psichiatria chiusa da tre mesi e per un TSO fino adesso ci si doveva recare addirittura a Teramo. Quindi una buona notizia sul fronte della sanità. E con questa notizia chiudiamo i giornali questa mattina. Per altre notizie del giorno vi invito a seguire il Tg, occhio alla notizia di Fano TV e per quanto riguarda la rassegna stampa vi do appuntamento domani alle ore 7. E questo è tutto, a risentirci, buona giornata.